Tutti quanti mi chiedono, ma perché? Perché non fai le copertine di video? Perché basta! Mi hanno rotto i cogliocchi, ok? Non mi va di lavorare così tanto, ok? Va bene? Ah Dopo questa cosa È difficile fare la copertina se metto un video al giorno Sempre Lion, là, che mette tre video al giorno e fa tre copertine Beh, non date fastidio, ragazzi Ovviamente scherzo Però, non è che sto scherzando tanto, eh? Comunque, la sigla iniziale, quella, la intro La metterò soltanto in alcuni video, non in tutti Perché, perché mi sbatto le... a montare Ecco, ho detto tutto della mia vita È il primo che mi scrive nei commenti perché abbessami sempre Perché non ti fai cazzo... tuoi? Eh? Eh? Ah, oggi sei un po' incazzato, ecco Si, 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 si vede che sei un po' incazzato Eh? Non so perché sei un po' incazzato, così mi andavo Allora Perché devo pisciare? Però, visto che sto registrando, non posso andare a pisciare E non la sto trattenendo, sono un co... Sì, ragazzi, voi dovete sapere che sono un co... Cioè Allora Sono andati allo stesso video Sono andati dentro la... la faccia E mi sono scoperto di prendere le torche Genio, genio, mamma mia, genio del male Del mare, però Ecco La, 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 la battuta No, la vera domanda è di tutta sta terra Che cazzo mi devo fare? Ma C'ho un sacco di terra, non so che farmele Cioè Me la mangio... me la mangio Mi mangerò la terra, dai Vero, scrivetemi nei commenti cosa posso fare con la terra Faccio una mega casa È vero Facciamo una mega casa di terra Qualcosa di veramente enorme Tutto di terra No, no, adesso vi è venuta... Ok, nel prossimo video Della vanilla Facciamo una mega... Un mega palazzo Tipo castello Palazzo reale Completamente di terra, ragazzi Ok Però lo facciamo lontano da qua Che deve sembrare tipo... Non lo so Al confine E poi Ho intenzione Oltre di fare Come se era girato quella pecora Sembrava tipo film horror Poi sto pure pensando di fare un castello Così, mi va Sono pazzo Sono impazzito Mamma mia Sono andato a pensare Ora mi è venuta pure la voglia di fare il castello Perché mi pare che nella scorsa vanilla Quella che precediva questa Fece il castello Ricordo Quindi adesso facciamo il palazzo del presidente Il castello Che ore sono? Sono le dieci e mezza Facciamo il castello E facciamo anche il palazzo di terra Il palazzo di terra sarà la prima cosa Perché Così mi va E niente Anche se in teoria E forse è meglio Che faccio prima Tutte le altre cose Poi con la terra che avanza Che recupero da là Fare anche Non lo so Pure il castello Quelle cose là Mettiamo questo Facciamo pure questo Anche se è del fabbro Sti cazzi Una cesta Ah no Ci però le torce E' al posto Qua ne mettiamo due Ne mettiamo un'altra Una qua Qua ne mettiamo due E un'altra qua Un bel alluminio Non so come passa Qua voglio cambiare un po' Perché così E' brutto Troppa terra Non è la casa del presidente Capito Io dopo tutto Sono il presidente E' il fondatore Di questo Questo mondo Quindi Questo stato Non stato Che è un campionato Di calcio Formato da tre squadre Fantastico ragazzi Fantastico E' vero Il 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 San Marino Tipo Che Campionato di calcio Hanno Due squadre Che si battono Per 38 giornate Di fila E' vero Quello che fa più vittorie Vince E' giusto No ragazzi Sono un genio Ho creato Il nuovo campionato Mondiale E' apposto Allora Secondo me Andava creata Tipo Per tutte quelle Le nazioni Che non si sono mai Qualificate Non Si sono qualificate Le qualificazioni Dei mondiali Di fare un mondiale A parte Per loro Tipo Cuba La Repubblica Domenicana Il Congo Il Togo La Malesia Nuove Filippine Nuova Guinea Il Papo Nuova Guinea Per fare Capito Per Mettere in mezzo Pure questi altri Unistati Pure le isole Virgin Inglesi Tutti quegli stati Là E Le isole Che sono La vicino America L'Honduras Il Paraguay Qualche mondiale Avrà giocato E Per mettere in mezzo Capito Per fare Un mondiale A parte Per tutte queste squadre Che Non possono Giocare Secondo me Sarebbe una genialata Una genialata Che farebbe Una genialata Che farebbe La FIFA Però Visto che La FIFA C'ha la FIFA Capito C'ha paura Dopo questa battuta Hashtag FIFA C'ha la FIFA Mamma mia Ragazzi Dopo questa Io giuro Che mi Potete Uscire Allora Legno Legno Questa 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 La Piedra E E Sta la Pietra Ma io Non lo so C'è un amico Che si chiama Pietra È una Unica No Aspetta Vediamo Un granetto Di sabbia Che ci C'è un pedro Oh Apposta Allora Veniamo qua Allora Nel tempo Libero Mi metto qua E recupero Tutte le Ricchitudini Questo Mi servirebbe Del carbone Non mi serve Che Sono proprio Ricco Saltiamo Questa Parte Dai A posto Allora Ho detto Se Piazzo Male Il Vetro Restempo Finisce Il video Ok Piazzo Male Il vetro Finisce Il video Giuro Vabbè Che Tanto Finirà Comunque Allora In questa Casa Dovevo Completarla Dovevo fare Un sacco Di cose Ancora Ragazzi Si capisce No 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 Con le mie idee Poi Alla prossima Video Finiamo con la casa E poi si pensa Alla Si Troppe idee Ragazzi Troppe idee Mettiamo Qua il letto Qua tipo comodino Rustico Figo E qua mettiamo Tipo La cassa Ci abbiamo Qua E vabbè Che ci possiamo mettere Due alberi Un blocco di là Allora Ora Che dobbiamo fare Ah il vetro Il vetro L'inchiare Allora Oh Vedi Vedi che si mette bene Va bene Nel prossimo video Finiamo la casa Che sta lì E poi Basta Poi cambio il gioco Vaffanculo Ciao ragazzi